Benvenuto alla dottoressa Verdiana Baroni, benvenuta cara dottoressa, ringrazio un'altra volta la paziente, la signora Rossella, perché adesso parliamo di bellezza, abbiamo parlato anche di bellezza perché insomma dare più luce agli occhi fa bene, soprattutto a noi donne per quanto riguarda insomma lo sguardo, il nostro sguardo, ma oggi parliamo in particolare di quando noi andiamo in farmacia, in profumeria e scegliamo un cosmetico. Non tutti i cosmetici vanno bene per tutti, vero dottoressa? Ahimè no, non tutti i cosmetici vanno bene per tutti, è proprio così, quando si formula un prodotto si cerca di risolvere, di andare diciamo a trattare un inestetismo che sia l'aumento dell'idratazione, di regolare la seborrea, un cosmetico antirughe e quindi si formula un prodotto con determinati principi attivi, ma un prodotto cosmetico non è fatto solo di principi attivi, ci sono eccipienti, profumi, conservanti, quindi quando si consiglia un prodotto bisogna valutare la formulazione nel complesso e tener conto anche di altre sostanze. E lei ci dirà proprio oggi a cosa noi dobbiamo fare attenzione, infatti è il caso anche delle creme a base di vitamina A, adesso è cambiato anche il regolamento, no? Per quanto riguarda il retinolo, se ne parla troppo forse di retinolo? Il retinolo se ne parla troppo ma va bene, è la forma alcolica della vitamina A, una vitamina liposolubile che ha molteplici, svolge molteplici azioni, cioè l'azione anti-aging, è un attivatore del turnover cellulare, quindi è un'azione anche esfoliante, illuminante ed è un antiossidante. La vitamina A noi la troviamo nei cosmetici come retinolo, ma esiste in diverse forme, in diverse concentrazioni, c'è il retinolo, la retinaldeide e il retinilpalmitato, che sono le forme che troviamo di più nei cosmetici. La forma attiva in realtà è l'acido retinoico, che però non troviamo nei cosmetici, ma solo nelle preparazioni galeniche o nei dispositivi medici. E' cambiato il regolamento, perché essendo appunto un derivato della vitamina A, il comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori vuole, diciamo, porre l'attenzione sull'assorbimento totale della vitamina A, quindi non solo dal punto di vista cosmetico, ma anche dal punto di vista alimentare e soprattutto chi ricorre alla nutraceutica. E poi non a tutti va bene il retinolo, perché bisogna fare attenzione anche a come usarlo, ci deve essere sempre una prescrizione affinché magari un'indicazione da parte della cosmetologa o parte della dermatologa che dica appunto se va bene in quel determinato tipo di pelle. E a proposito di pelle, noi vogliamo capire anche l'applicazione di una crema, come deve avvenire. Allora, bisogna sempre considerare che le concentrazioni da utilizzare, il comitato appunto per la sicurezza dei consumatori, si va per la sede perioculare, un concentrato di retinolo intorno allo 0,05% del contorno occhi e del viso. Mentre per i prodotti per il corpo e al risciacquo, per una concentrazione massima dello 0,3%. L'applicazione deve essere sempre effettuata tenendo conto che la cute in questa sede è molto vicina all'occhio e quindi potrebbe provocare reazioni di irritazione o allergia. Allora, noi ci dobbiamo sempre mantenere distanti, quindi partiamo dal centro, guardi su, dall'interno verso l'esterno, picchiettando. Picchiettando è la cosa fondamentale. Sì, non dobbiamo mai tirare troppo, altrimenti tiriamo via il prodotto. La pelle è estremamente sottile in questa sede, quindi c'è un assorbimento maggiore di tutti gli attivi e dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda la regione superiore, la crema si applica a livello della palpebra fissa, mai della palpebra mobile, proprio per la stretta vicinanza all'occhio. E nel viso, dottoressa, come la dobbiamo stendere? Allora, sul viso la crema va sempre applicata dal centro del viso verso l'esterno, facendo magari dei massaggi verso l'alto. Questo vale per il viso e anche per il collo. Mi raccomando, quando si utilizzano le creme a base di vitamina A, di iniziare l'applicazione non tutte le sere, ma di applicare il resinolo a sere alterne, per vedere se la pelle dà delle reazioni avverse. Certo, questo è importante. Mi raccomando utilizzare la vitamina A in tutte le sue forme, sempre la sera, proprio perché è una sostanza che potrebbe dare reazioni di fotosensibilità. La mattina va applicata sempre la protezione solare, estate e inverno. E allora, adesso noi vogliamo capire, proprio per questo motivo, a parte che io ribadisco e sottolineo, che prima di acquistare una crema, qualsiasi tipo di cosmetico, è necessaria anche una visita. Sì, una visita dal dermatologo, una consulenza con il cosmetologo. In fase di check-up, quindi di consulenza, tramite appunto il colloquio con il cliente, con il paziente, esce fuori se la paziente ha avuto un problema di reattività cutanea, allergia, intolleranza al cosmetico. E comunque si può valutare tramite delle strategie e dei test. Dei test. E noi lo vogliamo fare? Sì. No, per far capire, oggi facciamo addirittura il test di reattività cutanea. Come si fa? È il test che misura il dermografismo della pelle, cioè, semplicemente con lo stimolo meccanico, noi facciamo una croce e vediamo se la pelle dà una reazione infiammatoria. Quindi vediamo appunto se c'è una reattività, una base di reattività cutanea della paziente oppure no. E come sta la signora Rossella? Ha un po' di reattività? No. Forse un po' di rossore sì. Si vede già. Per cui basta sfregare e capire. Basta sfregare e questo già ci dà un'indicazione. Chiaramente con il check-up cutaneo noi abbiamo un'idea dello stato della pelle della signora. Poi però possono verificarsi delle condizioni che andrebbero indacate. Certo. Cioè, se noi in sede di consulenza cosmetologica indichiamo una linea ipoallergenica che comunque mira a calmare la pelle, a togliere l'infiammazione, ma la paziente ha comunque delle reazioni, probabilmente siamo nel caso in cui avvengono quelle cosiddette reazioni incrociate. E allora lì devono andare necessariamente dal dermatologo e dall'allergologo per verificare, esatto, scavare e non trovare. E a maggior ragione allora noi dobbiamo saper leggere un po' le etichette. Sì. L'inci, perché l'inci si chiama per quanto riguarda i cosmetici, si chiama inci. E allora noi dovremmo avere in grafica anche delle etichette per identificare dei prodotti, delle sostanze che non dovrebbero contenere i cosmetici e altre tante invece che sarebbe auspicabile contenessero i cosmetici. Allora, che cosa stiamo leggendo? Allora, stiamo leggendo un dispositivo medico che ha un'azione anti-aging e schiarente. E vediamo che il primo ingrediente di questo prodotto, che è un dispositivo medico, non è un cosmetico, è l'acido retinoico, quindi la forma attiva della vitamina A. Diciamo che dal punto di vista di formulazione, è una formulazione di sintesi, quindi con sostanze non naturali. Ah, ok. E vediamo che ci sono un po' di conservanti, di eccipienti, come l'immitazolini, l'urea, il disodium e il DTA, che ultimamente li stanno un po' condannando, semplicemente perché un abuso potrebbe creare delle reazioni avverse sulla pelle. Però io dico sempre che ci vuole equilibrio, no? Quindi utilizzare un dispositivo medico che è formulato così e funziona in questo modo, e quindi è efficace, va bene, purché sia bilanciato in un contesto di una skin care basata anche su altri conservanti, altri principi attivi, che non diano queste reazioni. Queste reazioni sono principi anche naturali, ci sono tanti cosmetici che ci aiutano in questo proposito, però insomma una consulenza sempre dalla cosmetologa o dal dermatologo è sempre necessario prima di acquistare qualsiasi tipo di cosmetico, proprio perché ognuno di noi ha la propria pelle. Sì, certo. Sì, certo.